Un momento difficile in campo e fuori campo, la Juventus ha sempre affrontato l'avversità e si è sempre rafforzata con l'avversità. Oggi ho parlato con il nostro allenatore Max Allegri che sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l'Europa in campo. Grazie.